22, 23 e 24 ottobre il G7 Italia Pescara si arricchisce di una giornata in più. Sede centrale Laurum, ma anche il comune tra le varie sedi che per l'occasione si sta rifacendo in Lucca. Sindaco Pescara è pronta per questa grande nuova avventura? Devo dire che sta diventando una iniziativa fantasmagorica, nel senso che si sta ingrandendo tantissimo. Noi siamo contenti, anche se ci sono problemi che aumentano, perché la gestione di eventi del genere è una gestione complessa. Perché noi avremo il G7, dove verranno 30 delegazioni da 30 paesi del mondo, non soltanto i 7 paesi più industrializzati della terra, ma anche paesi che parteciperanno ai temi legati alla cooperazione e allo sviluppo. Poi ci sarà il B7, cioè il Business 7 con la Confindustria dei paesi più industrializzati del mondo, che incontrerà i ministri del G7 e quelli italiani, ne verranno 4 di ministri a pescare in occasione del B7. Poi avremo l'SDG patrocinata dall'ONU con le organizzazioni non governative FAO e Save the Children. L'SDG parlerà di sviluppo di sostenibilità ambientale ai giovani, ai nostri giovani, alle nostre scuole, ai nostri universitari. Quindi la città sarà molto coinvolta rispetto a queste iniziative, anche se alcune zone saranno zone rosse, per esempio l'Aurum dove si svolgeranno le sessioni del G7. Poi ci sarà il comune protagonista assoluto perché ci sarà anche qui un'assemblea straordinaria dei sindaci della provincia di Pescara tenuta dal vicepresidente Tajani con la presenza certamente di organizzazioni non governative. Ci saranno altri appuntamenti che riguarderanno la città, visite guidate in alcune zone. Poi ci sarà anche la foto, quella ufficiale, che si farà alla nave di Cascella con lo sfondo del nostro mare e della nostra spiaggia e che girerà il mondo. Lei dice che però i disagi saranno contenuti, ma è possibile in vista di un appuntamento così grande? Sì, saranno contenuti perché le zone che saranno utilizzate per il G7 sono zone puntuali. L'Aurum, il Flaiano, il comune di Pescara, il Cinema Massimo, l'Imago Museum, la passeggiata su Corso Umberto dalla nave di Cascella fino a Piazza Sacrocuore. Queste aree ovviamente saranno controllate, ci saranno 1.500 fra poliziotti, guardia di finanza, carabinieri. Tutte le forze dell'ordine sono impegnate in questa situazione perché ci saranno 30 capi delegazioni di 30 stati del mondo.